buona sera a tutti ragazzi come state? chi è ora? video sul sociale da quanto tempo aspettavamo questa no per l'occasione la maglietta epica ho rimesso Uyaciumufa video sul sociale vi voglio parlare di un argomento guardate che questo è veramente un argomento molto molto intelligente prima di fare questo cervellone qua questa persona che tutti quanti odiano sviluppa sviluppa il mio cervello in continuo svolgimento ieri ho fatto turandò quindi suono riesco a trovare anche il tempo per dedicarmi anche a vedere al mio canale youtube amen allora secondo voi i mi piace che vi mettono su facebook su instagram su tiktok secondo voi sono tutti ci sono mi piace e mi piace ora vi spiego c'è il mi piace convinto c'è il mi piace disinteressato c'è il mi piace sfuggente e il mi piace me ne freghista c'è tu metta tanto perchè non se ne hai fatto un cazzo da te ma poi c'è fin di che tu metta quel mi piace ha tantissime sfaccettature sono parecchi i valori avete visto per esempio uno prende un smartphone uno a un certo punto il capo dove posta tu quello è il mi piace sfuggente ha manca visto un po' ti ha messo il mi piace ma in realtà te ne hai fatto un cazzo qui non ne hai fotti un cazzo di quello che fai poi ci dice il mi piace disinteressato se legge tutto l'articolo dove vuoi mettere o dove vuoi mettere a un certo punto si e no ci penso se non puoi mettere se non puoi mettere se non puoi mettere la faccia è questa qua quello che è da un smartphone tu non la vedi la faccia vedi? immagino già la faccia guarda disinteressato si sfuggente manca lo vedo c'è un po' praticamente ma mi si mette non mi piace a posto non mi sbaglio non mi piace 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 ci si, il boot c'è un po' ci sono i mi piace le ali lo vedete proprio su quello la qua lo vedete lo sa ti sento proprio la pressione del dito mentre lo vedete gli ho ucciso lì questo lo metto proprio col cuore muoconi min salon pon pon a questo non mi piace convinto quindi sì e poi c'è un ufficio me ne fregasse convinto quello là veloce, rapido e quello là di odio sai quelli là che ti spena e dopo 6-7-8 mesi ti metto non mi piace pur di evitare la cancellatura quelle ti odiano quelle non mi piace di odio mi piace di invidia manco vanno a me ti fanno a me quindi ci sono 4 tipi di mi piace avete capito quello mi piace là perché ho sempre pensato se mettessero facebook mettesse il mi piace il non mi piace sarebbe un caos ci sarebbe il caos non mi piace sarebbe clamoroso non mi piace e in quei mi piace ce ne stanno 4 tipi 4 tipi ce ne stanno non mi piace alternativo non mi piace invidioso non mi piace sfuggente e non mi piace sincero diffidato da quelli che mi mettono mi piace mi piace capito questo è un video per particolare attenzione a quelli che mi mettono in posta mi piace i rattusi i femmini mi piace a prescindere come un cesso ambulante quello ormai mi piace ma mi piace che vengono messi su facebook sui social molti dicono sono tutti falsi la maggior parte quello sincero uno su dieci l'altro è sfuggente faccia così manca il post manca il post che hai scritto non mi piace se ci vengono a dire ma che hai messo a fare ma l'hai letta almeno quello che hai scritto vabbè come la gente su youtube che mi piace manca il grande maestro ma se ma se ma se tu ma se tu che cazzo mi t'ha fatto vengono prima e poi con me dopo un momento già metto il grande maestro questo è il video per i social questo è il video per i social diffidate dai mi piace sui social perchè sopra dice no lo so falsi no lo so falsi stanno quello sfuggendo ma cazzo ma cazzo ce l'ha messo un mio piace qui falsi com'è che falsi falsi come le iscrizioni su youtube sono andate che vengono scritte per spiegare mi chiedono per vedere se ti piace o no vabbè rincoglioni dall'ennesima potenza ma sta gente ah tenne sotto controllo uuuuuuuuuuuu da quando è che vengono 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 sono 15 anni che hai fatto questo 15 anni così quanta merda che vedi se quante brave persone ho vedi quindi sassi chi mette uno dice sincero e chi mette uno dice falsi questo lo dico a tutti gli utenti gli utenti che navigano sui social attenzione se stai io mi piace messi con non c'è la magari ci accuta stai per farti contenta a te ma te pensi che io sono cretino cosa ci hai messo tanto per non devi credere che quello mi piace e fa e ve quello che ho fatto se hai messo qui hai capito? andiamo a questo mondo del web un sapore di menta fresca portiamo un po' di frescura vedete perché quella gente quella gente quella gente quella sono le persone più false dei socialnet più false dei socialnet quella gente proprio si proprio tu che mi stai guardando tu che mi metti mi piace perché tu grazie a ricevere per me hai capito? e come me voi che sono tutte false qui ma hai detto uno, due, tre, quattro proprio quando mi stanno due o tre o tre ho tutte le facce tutte le sfuggite e poi poi è un mi piace automatico e fa schifo perché è falso è falso avete capito? quindi mi raccomando se siete d'accordo con questo video commentate sotto lasciate la descrizione al canale se ti è piaciuto fa pure una donazione con il super chat o facemigli conto stasera per gli strunzati caglietti sopra internet sopra i live che vengono da l'aticano facemigli conto stasera perché non avevamo molte cose da dire iscriviti al canale è l'unico commentante del web mettici la descrizione e passiamo i 23.000 iscritti e quello che metti nemmeno più fa questo e arriviamo in gru po